il bonus giocabile dovete giocare ovviamente poi ve lo trasforma in saldo prenevabile c'ho un link ok dove dico sempre che vi sto dando 100 modi e vi faccio guarda questo link e se volete potete sempre andare qua ma non è che ho obbligo nessuno cioè a me ho anche pensato studio di mandarla attaccare perché comunque la fine so che è una cosa che non si può fare c'ho questo sito che mi dà un budget di 500 ore al giorno di giocare senza sapere quando andata senza ritorno ti seguirebbe nel capo al mondo all'ultimo secondo tolera e totale è anche arrivato il momento della truffa grazie anche ai ragazzi del podcast e ad altre ricerche che sono state fatte i ragazzi del podcast ma che stai a fa' ricordate che i squali stanno arrivà e benvenuti in questa nuova trasmissione ecco chi stiamo a parlare con chi Erpomata non ci credo è veramente lui una leggenda finalmente qui nome di battesi vabbè Bruno 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 vogliamo fare Bruno nome di battaglia se sono tipo allineati dei pianeti particolari perché voi magari i più affezionati avranno sentito qualche storia di me e Erpomata raccontata così a tua insaputa posso dirlo ho raccontato pure cose che magari molto adesso te li trovi qua e quindi hanno un volto delle bravate che abbiamo fatto beh sì in questo momento un volto e delineamento sì sì e perché sta qua perché è successa una cosa particolarissima Corona lo ha registrato a sua insaputa quindi ha commesso un illecito e le sue parole sono diventate virali si è scatenato tutto quanto uno scandalo che riguarda la serie A scommesse fatte da calciatori quindi roba quindi diciamolo per pubblicare se non è una battuta il pomato è veramente coinvolto nello scandalo che sta rigirando l'Italia come un pedalino fatalità sì purtroppo è assurda sta cosa io infatti l'altro giorno stavo con papà e lui già mi aveva detto no qua è successa sta cosa io te potrei stavamo a parlare di questo argomento qui conversazione privata io ho detto dai poi vado di là e papà mi fa guarda che è successa sta roba di corona e ho detto eh sì ne stavo a parlare con Bruno e sentivo sta voce al TG e dico ma questa voce mi sembra di conoscerla ma lì per lì non ci sono arrivato che era lui avrà detto anche guarda sto testa di cazzo sta a fare un casino no ma fatti no vabbè papà ne ha detto a qualcuna vabbè però contro corona no non è una stronzata seriamente no 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 io pure pensavo fosse entrato all'inizio non lo ha no no ci sta un video abbiamo i contributi mamma mia ci sta un video che faremo vedere che faremo vedere tra poco io intanto chiederei a Bruno di raccontarci sia sta situazione che si è creata poi ci stanno un paio di articoli di giornale che magari leggeremo e in più poi di dirci anche come sei stato implicato inizialmente ecco grazie Jimmy assolutamente assolutamente diciamo che scusa per chiarezza no è diventato virale un instastory di Fabrizio Corona dove lui pubblica contro la tua volontà una conversazione telefonica che voi due avete avuto e so anche che tu hai avuto l'impressione che questa conversazione sia stata manipolata sia stata editata esattamente questo è successo esattamente questo dicci un po' beh diciamo partiamo da quattro giorni fa dove io rilascio un commento sulla pagina ormai diventata famosissima di Dillinger News che poco prima di essere così virale non lo conosceva nessuno credo non so manco che è la testata di Corona Online esatto una testata giornalistica diciamo dove io lascio un commento dicendo ho delle informazioni quindi diciamo molto molto vago come commento in realtà io non avevo nessuna informazione nessuna prova poco dopo vengo contattato dal diciamo redazione se si può chiamare così ma perché gli hai scritto quella cosa se non avevi nessuna informazione ma guarda te lo spiego Simone io purtroppo non mi vergogno a dirlo avendo una situazione economico finanziaria abbastanza difficile ho pensato insomma ho pensato di cavalcare l'onda e di di dare delle informazioni vaghe perché non ho nessuna nessuna prova contro contro tutto ciò ok e non pensavo mai potessi mai venire contattato da dal signor sei stato messo in contatto che ti sono stati promessi pure dei soldi è la classica tattica di sentiamoci telefonicamente poi ci vedremo dal vivo io ti strapperò l'assegno di cifra x e poi magari infatti arriviamo proprio a questo e poi quella telefonata in realtà era semplicemente il punto dove voleva arrivare a lui non è che voleva andare oltre corona infatti poi è stata messa online diciamo che lui insomma mi contatta telefonicamente dicendo sono Fabrizio Corona io mi presento dicendo il mio nome e lui mi incomincia a parlare di alcune situazioni di cui lui era già conoscenza quindi del del caso delle scommesse all'interno insomma della serie A e comincia a parlare di di Roma della Roma della squadra Roma e mi fa tre nomi questi tre nomi diciamo per decoro non non li non li tirerò fuori ma tra questi nomi c'era Zaleschi e lui praticamente mi dice sta impegnatissimo sto periodo comunque pure si si lui dice di avere 50 nomi della serie A pronti a ma che c'entra con la serie A Zaleschi no no Zaleschi parliamo del giocatore non del presidente pensavo no pensavo tutti sconosciuti sti giocatori veramente io sono rimasto a Francesco Totti e De Rossi e quindi diciamo che lui mi dice che era già informato di alcuni fatti presenti all'interno della S Roma dicendomi che lui già lui sapeva benissimo che Zaleschi giocava su delle piattaforme online non si capisce bene comunque non originali diciamo quindi mi chiede sotto forma di proposta se io avessi confermato in qualunque modo e maniera il nome di questo giocatore lui parlava di ricompensa ok quindi praticamente Corona l'ha detto io so che Zelensky gioca su piattaforme non neanche legali in Italia esatto non AMS quindi no ok e tu in caso confermami esatto quindi da questa prima telefonata poi c'è una pausa di 20 minuti lui mi richiama e mi dice allora poi è uscito il video quindi più lampante di quello non c'è nulla perché poi lui dice esattamente lo dico nel video conosci Zaleschi io dico no sai se questo giocatore gioca in qualche piattaforma online io dico sì pur non sapendo assolutamente perché prima cosa non conosco personalmente questo ragazzo ok e quindi per questa ricompensa io dico sì so che quindi hai mentito ho mentito sapendolo di fare quindi volevi fondamentalmente dare un'informazione fasulla corona per intascar premio ma assolutamente ma l'informazione fasulla dal momento in cui ripeto io non ho nessuna prova in mano né scritta né parlata io parlo completamente a vanvera di questa situazione quindi tu speravi che dicendo queste cose a caso arrivavano dei soldi da corona no speravo questo in fondo però lui mi aveva detto era stato anche molto preciso io martedì vengo a Roma ci vediamo ad una cena vis a vis parliamo di questo di questo compenso che poi in euro era stato valutato 20.000 euro quindi parliamo di 20.000 euro per un'informazione che non aveva né arte né parte e tu eri pronto e tu eri pronto ad andare a cena con corona mandavanti sta pantomima io ero pronto ad andare a cena con corona se corona manteneva i patti insomma dicendo lui mi aveva detto anche te voleva tenere diciamo nell'ombra non è che voleva esponere la sua figura invece lui in testa corona c'era da fare l'esatto opposto perché corona ma entrambi volevano scammare l'altro non facciamo cose di cortesia per favore la verità è abbastanza chiara ma raccontiamo la storia lui mi dice mi dice che il martedì il seguente sarebbe venuto a Roma quindi di incontrarci e di avere un'intervista con volto coperto girato di schiena e voce modificata io sono un po' dubbioso all'inizio poi nel mentre mi chiede dice ma guarda che prima che di questa cena mi devi dare delle informazioni relative a questo argomento quindi telefonicamente lui senza il mio consenso senza nessuna autorizzazione mi registra la nostra chiamata e dopo 20 minuti che attacco il telefono con lui mi ritrovo circa 50 chiamate sul mio numero personale quindi privato dove mi contattano persone vicine e mi dicono ma cosa è successo cosa è combinato sei tu anche perché la mia voce è alquanto riconoscibile diciamo dal timbro di voce che ho e infatti diciamo questa cosa ha scatenato un boom mediatico non indifferente diciamo che tu conosci molto bene quel giro di scommesse in generale e tutto questo qua penso che si può dire no non si può dire perché io io non no vabbè intendo scommesse in generale scommesse legale esatto io ho avuto una sala scommesse ho avuto una sala scommesse e quindi pensavo pensavo di intendersi il mondo illegale no vabbè non direi mai delle bugie così pubblicamente insomma no no sì certo conosco bene questo mondo perché ho avuto ho avuto una sala scommesse quindi persone che comunque magari vivono di scommesse avranno potuto dire minchia ma io questa voce la conosco tacca usato problemi perché se uno deve intraprendere una cosa e vuole rimanere anonimo certo e poi la tua voce viene schiaffata lì e se leggeva pure il nome problemi te li crea quindi alla fine a prescindere da come sia la storia Corona ha commesso un illecito e tu potresti tranquillamente querelarlo e vincere a mani basse perché ragazzi lo sappiamo molto bene abbiamo affrontato questo argomento in 3000 situazioni diverse è una telefonata privata schiaffata online tagliata e manovrata perché come se io mochiamo Chitano gli dico Chitano ma quindi tu mi vorresti dire che Simone ha fatto questa cosa e lui dice eh Simone potrebbe aver fatto questa cosa e io metto solamente la parte che lo dice Chitano quando in realtà lo sto imboccando io e poi faccio i tagliadoc per avere la testimonianza scottante quando in realtà così non è diciamo che Corona ha fatto delle magie assurde no? con più persone peraltro sì montaggio tagli questo qua usando conversazioni private facendo promesse non vere questo può causare problemi a delle persone perché immagino che ti avrà causato dei problemi personali beh diciamo che mi ha buttato in un calderone mediatico a cui io tra l'altro non ero abituato perché non è che io sono abituato a stare così nelle luci della ribalta insomma quindi non mi ha creato diciamo pochi problemi poi io comunque ho una famiglia ho un figlio e io sicuramente come diceva Simone non le mie responsabilità me le prendo e le ho presi dal momento in cui a questi vocali ho dato un volto perché se no io sarei rimasto nell'anonimato più totale quindi io la responsabilità la prendo e so di aver sbagliato e il primo errore è stato immischiare in mezzo a questo discorso una persona che io non conosco come Nicola Zaleschi che ho avuto modo cioè ho avuto modo gli ho scritto un messaggio in privato chiedendogli scusa per quello che era successo quindi si può dire che Zaleschi è innocente ma Zaleschi per me è assolutamente innocente perché ripeto io non conosco non conosco nulla oltre quello che si vede di Zaleschi quindi che si allena e gioca le partite non so cosa faccia ma secondo me sa che non gli abbastano le scuse sicuramente sta per l'avvelenato come è giusto sicuramente 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 ci sta che tu hai detto questa cosa ti rendi conto è top quello che ha fatto Corona poi fa capire una cosa che se capisce ormai ogni volta che abbiamo a che fare con Corona la sua enorme disperazione lui cerca anche di creare cose dal nulla palesemente perché chi sta a rota dei gossip crede che ci sia sempre qualcosa di cui parlare a volte non succede un cazzo possono passare intere giornali dove non succede niente ma queste persone non concepiscono questa cosa stanno a rota la disperazione più totale chi si ricorda il caso Sdrumox il caso Luis Sal gay che in realtà stava baciando Sdrumox stronzate che cosa ha fatto ha preso la telefonata che ha avuto con il qui presente Bruno l'ha modificata l'ha tagliata l'ha messa sul suo Instagram per generare Scalpore Scalpore che è riuscito a generare perché ovviamente si parla di nomi che in realtà neanche so chi sono però nomi famosi vediamo questo video vediamo appunto l'unica cosa in aggiunta a quello che dicevi tu è che paradossalmente abbiamo fatto questo discorso sulla problematicità del giornalismo coroniano prima ancora del scandalo ti ricordi come no in relazione alle cose che aveva scritto sul gruppo Telegram sulla Lucarelli eccetera cioè assenza di fat checking totale quindi Marco Chitano mi dice io prendo sbatto spesso manipolando con la speranza di trovare il gossip che lo faccia ritornare in auge appunto ce l'ha provato con Luis Fedez con la Lucarelli adesso in realtà c'è riuscito cioè è tornato alla ribalta il problema è che qui molti sono stati già definiti colpevoli almeno dal popolo poi magari lui non ha l'obbligo di dimostrare le cose quindi se tu spari 50 nomi magari tre sono pure veri perché nei vari detti questo mi ha detto che quest'altro mi ha riportato ho visto questo magari ci azzecchi pure però nel frattempo ha rovinato la vita a 47 persone magari sai che la cosa che in questo caso io ne so abbastanza sicuro che era convinto lui che non è vero però l'ha comunque schiaffato là come è stata di Simone ma come una roba di Strumox gli fregava semplicemente che faceva notizie e che faceva il boom Corona l'aveva immaginato che è una cosa non vera però avendo il tizio lì tutto anonimo che ti dice lo scoop e la gente non sa chi è dice ha fatto questo e lo danno è vero cioè Corona raga parlamosi chiaro sono anni e anni che sta in mezzo a queste cose qui e il suo modus operandi è sempre il medesimo quindi non è una questione di verità è una questione se può essere scoop e quanto può far esplodere una bomba a prescindere da quello che abbiano fatto poi le determinate persone ovviamente è uscito fuori ma Fagioli non l'ha scoperto Corona ragazzi Fagioli l'ha già uscito poi Corona ha fatto finta includendolo nel suo almanacco di averlo scoperto lui in realtà già era uscito come altri nomi che già leggiavano lui ne ha tirati fuori altri ripeto magari alcuni realmente giocano ad azzardo alcuni magari sono ludovatici ma poi Corona è atipico stavo pensando come figura paparazzo così perché molti magari lo fanno per soldi o comunque lui lo fa proprio per apparire usa il gossip per avere luce riflessa su lui per quanto è figo infatti parliamo di questo prima noi parlavamo dicendo che comunque stiamo parlando di una persona pluripregiudicata un drogato cronico uno che fa uso di sostanze psicotrope dalla mattina alla sera perché lui è il primo che dice io prendo circa 100 pastiglie al giorno poi se è vero o no lo sa solo lui non fa niente però comunque stiamo parlando di una persona di una fonte non attendibile perché lui crea lo scoop lui ha dei pezzi di puzzle che cercando persone ad esempio come me che hanno bisogno di un riscontro economico mette insieme questi pezzi è come sparare in mezzo al mare con una pistola prima o poi qualcosa sì certo ma infatti vedo qualche nome sicuramente poi sarà confermato anche perché alcune voci giravano magari da tempo non per noi ma negli addetti al lavoro sicuramente sì magari altri erano semplicemente ludopatici quindi magari giocavano non le partite in cui potevano avere per forza di cose un potere quindi non commettendo una vera e propria frode sportiva una truffa sportiva però comunque sia giocavano per varie motivazioni quindi non è il discorso legato al fatto che alcuni hanno confessato alcuni verranno fuori quello sì è uno scandalo anche importante nel mondo del calcio che da un certo punto di vista è giusto anche venga sollevato ma non così perché ripeto non così perché se all'interno dei nomi tu butti 45 che non c'entrano niente è capace che rovini la vita a queste persone e purtroppo nel caso di Zeleschi qua responsabilità è pure del buon Bruno mi dispiace però in questo caso tu hai contribuito magari avrebbe fatto lo stesso corona il nome attaccando da qualcun altro però hai contribuito alla potenziale rovina di un ragazzo poi se lui effettivamente è colpevole di truffa allora è un altro discorso però per tua stessa missione tu non lo sai assolutamente ma questo è uno dei motivi per cui sono qui oggi non è solamente per discolparmi di ciò che ho fatto che sicuramente è importante sia per il ragazzo che comunque poi per le cose che sono uscite perché ad oggi io potrei potrei subire anche tra virgolette dei processi magari ho dato delle informazioni non veri lo dovrò dimostrare questo e comunque io veramente non ho nessuna informazione su questo giocatore io assolutamente non sapevo di essere registrato guardate io non avrei mai fatto questo se lui non mi avesse tu dici ok sei stato un coglione si può dire coglione perché si può dire perché lo dice hai creduto a Fabrizio Corona che è il primo infame che crea questi questi scoop studiati a tavolino ed è vero è successo proprio questo io ho creduto a una persona che mi ha promesso dei soldi perché lui ha promesso dei soldi e ha quantificato un valore di soldi perché 20.000 euro non è che io me lo invento dopodiché io ho ricevuto anche un altro lì per lì quando è successo tutto questo scandalo del vocale io naturalmente ho provato a ricontattarlo perché ha creato un casino perché sono stato anche facilmente riconoscibile lui mi ha bloccato le chiamate bloccato i messaggi non ho avuto nessun più contatto con lui per due giorni fino a che la mattina mi alzo e chiamo il suo avvocato dicendogli che avrei fatto delle azioni legali se lui in qualche modo poteva omettere alcune parti di questa chiamata o quantomeno perché io secondo me lui ha registrato anche la parte in cui mi dice la tua voce verrà omessa e verrai nascosto non sarà riconoscibile lui ha tutto registrato sicuramente e poi ha messo e tagliato ciò che vuole lui ce l'abbiamo sentiamo sentiamo il contributo facciamo sentire che dura un minutino il bannato è bello fra te per favore grazie mille guarda io ho un nome di un giocatore della Roma attualmente Zaniolo no 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 ora che gioca ora che gioca ora italiano italo polacco ragazzino si gioca 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 con certezza con certezza ma proprio assolutamente sì e poi so anche so anche come si chiama lui so anche so anche so anche fa gioia chi deve parecchi soldi questo mi interessa perché ma la vita serba eh scusami ma la vita serba no 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 guarda stava pure a pia per culo ma che è sta cosa di malavita serba ti spiego la malavita serba spiegaci un attimo sta cosa lui era convinto di questa malavita serba perché ma parliamo di fagioli però sì sempre perché alcuni informatori dicevano eh fagioli 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 eh un giocatore ok fagioli è un giocatore della Juventus e alcuni suoi informatori gli hanno detto che questi calciatori giocavano su siti di serbi quindi lui parla di malavita serba però nel mentre lui la prima chiamata già mi aveva detto no non dire malavita serba ma di questo che qui è tagliato e lui mi ricordo se l'ha messo poi integrato ti imboccava pure che dire assolutamente lui mi ha burattinato proprio ma beh cioè che senso è imboccarti cosa dire perché ti imboccava cosa dire perché così lui può tirare fuori questa chiamata qui dicendo questo è il mio informatore esatto queste sono le prove cioè non deve dirlo direttamente lui esatto è proprio questo dà più valore alla cosa no no ma non è questo lo dice lui Simone scusa magari c'è meno credibilità lui in questo momento ha anche un ruolo da paraculo perché lui dice io non sono più l'accusatore di una volta che rischio condanne penali eccetera eccetera io in questo momento sono un testimone informato dei fatti quindi lui si si parla il culo si parla le domande però lui ti imbocca lui fa questo per poi arrivare al suo scopo e lui con me ci è arrivato in tutto e per tutto ok non solo malavitosi hanno il banco perché io ho saputo tramite delle persone delle amicizie con certezza che un cantante un dj ha un banco molto importante a Roma famosi? si 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 ok a un banco di scommesse e questo banco so che faceva giocare alcuni alcuni giocatori tra cui i fagioli che so che gli deve 70.000 euro Dillinger che vuol dire Dillinger è il nome della testata online ok 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 Dillinger c'è pure il film su Dillinger che è Johnny Depp mi sa come interpreta tra l'altro e poi qua si parla di cose per me incomprensibili è il criminale il nemico pubblico non me lo ricordavo però mi ricordavo il tuo nome qua si parla di cose incomprensibili questo è quello vero pure il banco di scommesse ma questo è lui il banco di scommesse significa esattamente che come io ho una sala scommesse tu entri a giocare da me dal momento in cui vieni e giochi la mia azienda sarebbe il banco con lei che regge il banco ok quindi è è semplice questo discorso ma io ripeto di tutto ciò non so assolutamente so assolutamente zero zero spaccato sì ma ragazzi questa roba rendiamoci conto in questo momento noi abbiamo un testimone in esclusiva di Fabrizio Corona che ha utilizzato come essenzialmente testimonianza quantomeno valida visto che poi l'ha pubblicato ovunque e dal buon pomata è partito tutto il caso Zelensky fondamentalmente io lo chiamo così non mi rompete i coglioni quindi è una cosa abbastanza assurda anche a livello di mondi che si sono incrociati come smentita pubblica perché giù sostamente lui per quanto possa di nei suoi spazi la verità Corona al cortello dalla parte del Manico perché l'informazione che fa passare Corona è un altro vero ripeto anche per responsabilità del buon Bruno però parte di questo casino mediatico riguarda anche il cacciatore in questione che a quanto pare è stato accusato senza alcuna prova quindi con una voce di corridoio poi sbattuto da là ovviamente in pubblica piazza mostro in prima pagina finché ci sono ste indagini in corso questi calciatori sono stati messi pure in stop dalla nazionale e altre cose magari faranno le indagini vorranno far chiarezza vorranno capire la verità però intanto ste persone delle ripercussioni ce l'hanno ma infatti lui cerca questo lui vuole lo scoop primario dopo ti ti ricontatta come ha fatto con me dicendo che lui doveva per darti questi soldi che ti aveva promesso doveva arrivare proprio a questo quindi a prometterti e far uscire lo scoop e poi ti vuole incontrare e quindi io a mia discolpa dico anche questo che io è vero ho fatto tutto questo per un riscontro economico perché purtroppo per fortuna 20.000 euro farebbero comodo a tutti io sfido chiunque a dire il contrario soprattutto in una situazione come la mia lui dopo di che ti vorrebbe incontrare tra l'altro io ho la registrazione in cui mi dice come ho fatto con gli altri casi quindi con il signor Fagioli e il signor Zagnolo dove dopo che fa uscire questo vocale che lui registra su Telegram ti incontrerebbe di spalle quindi a quel punto ormai stavo ballando potevo continuare a ballare a presentarmi il giorno ma ce l'hai per caso sta registrazione ce l'ho ce l'ho ma si giusto per capire di che si tratta si prima stavo cercando i passiti solamente che l'audio è un po' una merda è un po' una merda però ci proviamo diamo il telefono a Marco che tanto c'ha il microfono così almeno riesce a leggo un attimo un commento del ragazzo che scrive la chat è infuocata scusate perché sembra che il problema adesso sia corone e non i giocatori che sporcano nel mondo del calcio le società che coprono tutto domanda non provocatoria no no walk walk come te chiami assolutamente ma poi in realtà l'ho detto prima il problema chiaramente è chi truffa perché di questo parliamo chiaramente il fatto è un altro è che se tu non ti fai alcun tipo di problema e non verifichi mai quello di cui parli rischiando di rovinare la vita di molte persone e ripeto in questo c'è anche il buon Bruno in mezzo ma Corona lo fa dà una vita e sappiamo qual è il suo modo superandi non basta dire vabbè ma io voglio ripulire il calcio a parte il fatto che sappiamo anche che le intenzioni di Corona non sono assolutamente virtuose ma non è questo il punto le intenzioni ce ne fotte poco il risultato è che tu magari si tiri fuori dieci nomi ma ne rovini altri 40 non si fa così cioè fai effettivamente un lavoro di inchiesta come si deve verificare i fonti che prendi il vocale del pomada che ti ha detto ho sentito questo e lo schiaffi lì o al massimo ripeto fai una testimonianza ma quello deve darti il consenso per mettere la faccia anche perché almeno è responsabile lui quanto meno poi Corona ci ha giocato su sta cosa se metti reaction al volo che ne so ha iniziato a fare post tipo questo vi rivelerò chi è il nome vabbè si ovvio tra l'altro doveva rivelarmi pare ieri o l'altro ieri poi ho detto no in realtà lunedì o martedì no martedì credo perché gli abbiano chiesto la RAI magari un'esclusiva non lo so o in generale anche se Corona avesse messo in mezzo Bruno altri testimoni senza identità con l'identità in influente comunque un minimo di prove le devi avere cioè pure noi abbiamo raccorto delle testimonianze da persone che magari non hanno voluto rilevare l'identità magari c'erano le conversazioni c'era una prova capito gli interessa che qualcuno lo ha detto che non è lui che qualcuno lo dica lo metta nell'equazione cioè se tu non c'hai neanche capito due cose in croce come prove non basta la parola di uno non è sufficiente poi se c'hai che ne so dieci testimonianze uguali tre ragazze che ti dicono siamo state stuprate da questa persona e questa metodologia chiaramente non è che non valgono niente però così mi sembra un po' troppo adesso lo stesso non è che sta dicendo si è vero anche se non ho le prove so che Zelensky e altri calciatori giocano d'azzardo dice no non c'avevo un cazzo volevo far messi i sordi su Corona sbagliando però gli ho dato informazioni fasulle questo è esattamente questo è inutile in un paese che venere criminali mafiosi gente del genere sta sempre difesa si lo so lo so ma ho visto che Corona adesso è rovi nazionale ma pure la gente che dice 20.000 euro ma vai a lavorare come se fosse facile domani vai trovi subito un lavoro e guadagni 20.000 euro sembrate qua perché lo stanno a scrivere non a cifrare facciamo sentire un po' quello che diceva la ragazza che criticavano tutti l'altra volta su TikTok non è la patente vai a lavorare per me nonostante sia amico di Gianluca io non lo conosco Bruno per l'amor di Dio per me non è giustificabile ma qua sta in veste dei ospiti non è che c'è un trattamento di favore se erano sconosciuto se erano sconosciuto se sarebbe fatta comunque pure la live è un fatto pubblico molto importante poi personalmente è chiaro che nel senso non lo giustifico ma chi se ne frega anche il mio parere comunque sentiamo vai ma si che non valgono però vai a lavorare e non c'entra niente se non era mio amico non sarebbe cambiato niente comunque il testimone di una cosa che è diventata virale io l'avrei invitato comunque gli avrei fatto comunque le stesse domande è una smentita pubblica pure nei confronti di questo ragazzo che perlomeno fino adesso non ha avuto alcuna prova contro di Zalensky c'è prova? vai ti conosci io ti conosco aspetta che ha io faccio un lavoro sporco per poi tornare a quello che vuoi te se non lo posso fare quindi ho detto che ti avrei chiamato per il sistemato eccoli qua proposta no non si capisce è meglio se lo mette Gianluca che sta più vicino a voi ma scusa a sto punto mandamelo ma lo apro da qua se no lo sentono loro due lo apro da qua dai mandatelo su whatsapp mandalo su whatsapp lo apro da qua perché se no leva reaction addio boi potevi non cliccarsi stanno stato d'ansia so passare il telefono a loro cosa importa non sei per nulla coatto non fai il coatto con la gente non so coatto e faccio così devi levare reaction non hai capito Aist non importa perché già l'ho espresso ho detto cosa penso adesso stiamo andando nel merito dei fatti già ho detto cosa penso ovviamente è un comportamento per me indegno tanto quanto quello di Corona non è che devo aggiungere altro anzi che ci ha voluto comunque mettere la faccia e sta qua perché in altro comunque poteva dire minimizzare i danni che non si era visto in faccia in realtà è una cosa pure che secondo me andrebbe apprezzata perché leva anche fango lì dove lui lo ha buttato per la dinamica che ha raccontato quindi alla fine non ok me lo stanno mandando su Whatsapp ve lo rigiro subito sul gruppo però devo mettere il wifi sì sono come umani questi altri video cosa sono intanto sono altri video che Corona ha messo sul suo gruppo Telegram io ho messo sia i video sia i screen che ci sta scritta pure la vediamo la roba che ha messo lui e poi ho linkato pure un paio di articoli che spiegano lo scandalo calcistico a grandi linee allora dammi qualche garanzia cioè che la mia voce e la mia faccia non escono allora la storia del debito è vera certa proprio e più volte sono arrivate minacce anche fuori dal centro sportivo della Juventus questo non è Bruno che resta troppo alta e pensa di essere intoccabile perché è un calciatore di serie quelli con cui ha i debiti sono dei serbi lui ogni tanto manda i suoi amichetti a saldare qualche debito contante poi parliamo di fagioli per esempio per l'altro giorno un ragazzo di Piacenza è andato a Torino alle tre mezza quattro di notte per prendere mille e cinquecento euro da consegnare a uno di questi serbi ed era il giorno prima che lui doveva partire per la tournée in Giappone ma chi è questo che parla? è un altro un altro presunto un formatore però vedi pure in questo caso cioè ma la voce è pure censurata poi prende spiattellà un vocale poi magari sono pure vere alcune di queste cose ma senza verifica cioè si sono nati là gli hanno chiesto sordi dai amici suoi ma come cazzo ma io veramente non lo so perché è disperato non c'è niente ma non ha nulla da perdere tanto quello vocalino è la cosa più bella che gli è capitata avanti quel giorno è la mezza ti rendi conto come cazzo veramente si gestiscono le cose poi la cosa che mi manda ai matti non è tanto corona che lo conosciamo ripeto come modus operandi è anche pagato per cose di questo tipo e anche peggiori ovviamente il fatto è che venga pure esaltato come un grande ma poi inchiesta ma inchiesta di che? questo è egoismo se tu che sbatti qualsiasi conversazione privata e qualsiasi balla o verità qualsiasi cosa che ti venga detta così nella speranza che qualcuna sia vera o che qualcuno confessi spaventato poiché magari nel torto ma tu neanche lo sai cioè ma il fatto facciamolo sentire questo che è? è il vocale? no questa qua questo video che hai mandato è praticamente quello che hai registrato tu questo è ciò che ho registrato io esattamente ieri sera ok quindi ieri sera ok lo facciamo sentire ci penso Fabrizio posso pensarci? no frate ascolta mi hai cercato tu mi hai chiamato per farmi una telefonata le cose sono tu o te lo sei inventato perché volevi un attimo di notorietà o perché comunque volevi partecipare in questa inchiesta queste cose si vengono hanno mercato ed è giusto che si pagano quindi non capisco perché allora mi hai cercato sei te che hai cercato me ma io ho cercato te ma io ho cercato te non per avere notorietà ma per 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 questo ma non potevo darti questo se non facevo questo perché se no ero un signor nessuno sentite cosa dice lui lui scusate cioè lui dice io non potevo darti ciò che vuoi tu se non facevo questo quindi praticamente qui sta ammettendo in poche parole ciò che ho appena detto lui sta ammettendo che se non creava questo teatrino mediatico non poteva di conseguenza avere una confessione sempre fa sola finta e non poteva darmi in cambio questi soldi ok e io proprio quello per cui era partito tutto questo rifiuto perché io sono presente qui se io volevo questi soldi mi vedevo direttamente con lui martedì chissà dove e non ero qui presente a parlare di questa situazione quindi non quindi lui ti avrebbe pagato ancora non è che non cioè era ancora aperta l'idea di pagate quindi sì 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 e quindi tu ora senti che sarebbe immorale prendere questi soldi ora ora sì assolutamente sì prima no prima non l'ho pensato era una telefonata non l'ho pensato immagino pure per l'anonimato non l'ho pensato se uno dice faccio sci sta cosa rimanga anonimo è un conto se uno dice faccio sci sta cosa però ho fatto sci o sanno chi so guarda io prima ho letto comunque magari ti metti pure in mezzo a cose dove uno non può sta immagino no ho letto in chat un commento che un ragazzo ha detto cosa si fa per cosa non si fa per prendere due soldi vendereste anche vostra madre e il discorso è proprio questo io mia madre non la venderei però questa cosa è passata come infamità pura quando questo non è perché io ripeto sto oggi qui ammettendo e mi sto anche sbugiardando perché comunque non è una cosa molto carina venire a dire in una trasmissione come la vostra cioè non mi sto a morire di fame in pratica in pratica non è così però era un'occasione alquanto chiotta quindi è proprio questo poi io assolutamente sapevo di venire qua in qualche modo essere giudicato e non compreso perché mi assumo anche questa di responsabilità sono un ragazzo mediamente intelligente quindi capisco che potevo creare oltre già quello che avevo creato altri dissavori altri giudizi come ecco poco fa ciò che tu hai detto io in questo momento anche come ho detto Simone in questo momento ti rendi conto e prima no e hanno scritto anche qua se avessi preso questi 20.000 euro tutto questo sarebbe successo magari non lo so non sarebbe successo io non lo posso dire col seno del poi magari ti dico no non sarebbe successo io avrei continuato per la mia strada ero il signor nessuno invece ad oggi ho un volto e una voce delle informazioni di me perché io non giudico minimamente comunque è solo per comprendere proprio faccio domande perché giudizio forse è sbagliato certo fate le vostre domande come è giusto io non no ma la chat sicuramente sì ho letto perché mi ha chiuso l'occhio prima leggendo su leggendo questo commento e venderesti anche tua madre non è proprio così però magari ho pensato che cose mi è rimasto da fare fare qualche illecito fare qualche rapina vendere droga o fare fare cose simili io la strada più semplice era questa e poi si è trasformata in strada più decisamente più complicata esatto esatto ok ok caso Zaniolo il padre vedi con la fonte con la fonte c'era l'audio sì e poi l'ho fatto come te non lo sapeva mica e quello tutto il materiale è Zaniolo caso Fagioli prima agosto uguale il telefono è gestato ora loro prendono quello per cui mi avevano cercato ma solo così lo posso scusami scusami se ti interrompo ma prendono quello per cui ti hanno cercato sì 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 una notizia uno si racconta la storia prende dei soldi si sistema raccontare ricaccia e tu non devi mentire in questo momento lui parla la prima volta che parla di soldi perché lui finora parlava di riscontro non cercava tutti i sinonimi possibili pur di non dire soldi e lui non so se si aspettava che io lo registrassi l'altra sera è la prima volta che parla di soldi quindi anche questo credo che sia penalmente punibile perché per un'informazione tu dai dei soldi come ricompensa adesso non so precisamente come si chiama il reato però credo che sia già questa una cosa sbagliata e proseguiamo volevo 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 e la voce è modificata quindi annulla il consasso precedente fino ok ok va bene va bene ok allora devo preparare il contratto però devo preparare un contratto ok eh certo io ti garantisco determinato poi nel contratto non mettiamo la cifra se te mi dici di sì io ora faccio un budget gli altri due già mi hanno detto di sì uno viene in studio quello del caso Zelensky in studio da te scusami Mara che ti rinterrompo un'altra volta da questo momento in poi visto che sono presenti anche altre persone su questo video con mia moglie magari pregiere che non andiamo avanti però credo credo che credo che ma qua parlava di altre due persone no no lui parla degli altri due casi come è successo negli altri due casi le altre due persone che lui ha contattato no parliamo di Fagioli e Zagnolo in questo caso quindi lui ha contattato i suoi informatori ha mandato sempre questo vocale ha sputtanato la persona e poi ci si è incontrato sotto ricompensa gli ha fatto questa fantomatica intervista che secondo me lui proprio perché adesso è stato sicuramente ripreso ha detto non uscirà più niente su Dillinger non uscirà più niente su Telegram perché martedì sera farà questa trasmissione in cui continuerà a sparare a zero a sputtanare tutti i ragazzi bravi ragazzi come me ma ragazzi normali che non sono abituati ripeto a tutto questo clamore che sta uscito fuori quindi io ripeto secondo me questa come ha detto prima Marra è a pari passo ciò che ho fatto io dopo ciò che lui ha combinato perché lui ha unito questi punti che aveva di puzzle e li ha messi tutti insieme a pensare di creare uno scoop secondo me la cosa più importante di questa live è capire se sto ragazzo come si chiama Zilensky è finito nei casini solamente per sta parentesi oppure ci sono state anche altre persone che lo hanno messo in mezzo a questa cosa delle scommesse guarda io mi sono un po' informato poi da che non sapevo una ceppa ho provato a informarmi a capire cosa ci fosse dietro praticamente si parla che di questi giocatori già c'era da tempo un'indagine praticamente lui fa proprio questo tira fuori il caprio espiatorio e magari una una storia che deve rimanere segreta lui la fa uscire come una notizia incredibile e lui proprio questo ha fatto ma io informandomi già si parlava da molto tempo anche ripeto per questo ragazzo di cui io faccio il nome so che al momento non è non ha avuto ripercussioni non è indagato esatto non ha avuto ripercussioni mentre per gli altri due alcuni hanno il mio giudizio per lui personalmente non e poi esattamente prima che io parlassi con lui della seconda telefonata mi aveva appena detto al telefono che lui aveva dei messaggi vocali addirittura della madre di Zareschi che lo pregava di non fare il nome del figlio quindi lui già aveva molto materiale in mano io sono stato una pedina una pedina che lui ha mosso questa cosa della madre è particolare perché la madre contatta Corona ti prego non fare il nome di mio figlio potrebbe essere vista come una sorta di paura e di conseguenza quasi un come si può dire una ammissione di bravo una sorta di ammissione di colpo io non penso che sia vero a patto che sia vero ma no ma esatto ma può essere anche una madre preoccupata per un figlio che comunque ha una carriera importante è un calcio di resera e può dire non rovinare mio figlio senza motivo può essere presa anche ma la cosa più brutta è che qua non c'è una ricerca della verità è quella la cosa che mi fa più gira il cazzo capito non è che uno dice perché se Corona sta là per trovare dei giocatori che commettono un illecito di questa cosa della madre ci sono prove certe di questa cosa della madre io adesso l'ho appreso ci sono prove certe ci sono Corona perché sapere questa cosa dà per scontato che Corona abbia del potere bisogna avere paura è una cosa che si è inventato un egocentrico a mio avviso mi ha chiamato addirittura la madre poi se è vero dai ci sono sempre degli screen dei messaggi che lui mette sempre su questi social l'unica prova che lui ha fondamentalmente sono queste quello mi prega di non metterli quell'altro mi parla di mi informa di ma fondamentalmente non è nulla in mano si ma sto buono pure io faccio il titano che ha la voce modificata ti prego non sputtare mio figlio Omiatol però supponiamo una cosa se io da domani inizio a dire chiunque mi dà informazioni su Villa Inditurno gli strappo un assegno da 20.000 euro secondo voi e secondo voi tutta la chat che siete tutti dei giudici del cazzo nessuno spunterebbe a sparare cazzate ma poi la cosa greve è se io poi prendo queste cose magari o capisco che so cazzate o magari ho forte dubbio ma sicuramente so che non è la verità assoluta poi non pago quelle persone e uso sta roba qua per creare uno scoop per Giovaccio e io non pensando che delle persone innocenti potrebbero perdere il lavoro potrebbero finire i sottindagini potrebbero avere ripercussioni pesate la risposta è molto semplice già avviene anche senza soldi in cambio cioè in tutti i gate noi abbiamo una marea di informazioni che dobbiamo cestinare perché sono o false o non verificabili non dimostrabili magari anche cose vere ma che tu non puoi dimostrare quindi non le puoi ovviamente mandare in onda ma succede sempre questa cosa gratuitamente perché non è che diciamo mettiamo la taglia sulla testa di che cazzo non so il personaggio in questione mandateci tutto il materiale mandatecelo se è ovviamente verificabile se c'è una testimonianza seria con qualche prova è un conto poi anche lì scartiamo il superfluo cerchiamo di capire un po' come agisce il modus operandi mettiamo insieme più cose questa è una merda ragazzi questa è merda è merda semplicemente ha preso delle cose un po' che se sapevano alcuni rinvia giudizio che spoiler non significa che un cazzo rinvia giudizio non significa che tu sia condannato tra l'altro per certe cose magari una squadra di calcio può anche dirti ok tu giochi d'azzardo ti allontano dalla squadra ma magari non commetti un illecito per l'Italia perché non giochi d'azzardo in partite in cui puoi avere un potere o sei coinvolto direttamente quindi ha preso sta vicenda gigantesca la sua bravura tra virgolette è stata quella di gonfiarla rendendola un qualcosa di coerente quando normalmente non lo è non c'è un sistema alla base secondo me l'ha creato lui ci sono molte persone che giocano come sempre è stato alcuni anche coinvolti direttamente questo è o comunque gente più grossa le spalle che copre ma sicuramente non c'è la prova e non ce la fornirà di sicuro corona dicendo questi presunti 50 nomi adesso poi sono curioso perché lui secondo me anche l'ha sparata gross ho 50 nomi ma vedremo tra l'altro il post in questione era questo qua quello dove diceva daremo l'anteprima sta continuando a mettere lo spin del gruppo telegram aspettate che moderno ho messo un attimo a cacassotto vabbè chiaramente la prova del sì che parla prova di nulla ovviamente eccolo questo possiamo vedere uno che ha catturato la mia attenzione un po' per staccare mezzo secondo andate un attimo sotto vai sotto questo qua tranquilla Giorgia Damiano manchi anche tu è una foto non è vita Damiano De Maneskin sembra passare a tutto forché alla sua ex Giorgia Soleri sembra infatti che lui abbia un altro flirt mentre lei continua a nominarlo vabbè perché c'è la foto che sembra che sta a guardare il culo a Victoria in realtà sta a guardare un'altra cosa infatti mi parite che mostro Dillinger News se la sente molto testata giornalistica di questa è una gossipata ai livelli del peggiore Alfonso Signorini adesso è tornato un minimo in auge con sta puttanata ma guarda sta roba Ferragnez godetevi la vostra casa extra ma che cos'è capito una cazzo guarda qua Ergiona sulle mani e l'amante di Alessandro falleva sull'odio e l'invidia sociale solo tradimenti ho giustificato ma poi ripeto quello che ha sempre fatto Corona non è che ci dobbiamo stupì non parliamo del giornalista d'assalto però dove cazzo era quel reel in cui no non era questo questo era eccolo sì era questo qua ultima ora notizia esclusiva il sito Dillinger News non pubblicherà più nulla sul caso scommesse fino a martedì sera dopo la partita della nazionale italiana di calcio sperando ovviamente in una vittoria fondamentale Fabrizio Corona sarà ospite su Rai3 d'annunzia di Girolamo durante la messa in onda della trasmissione Avanti Popolo Fabrizio Corona presenterà tutte le prove le testimonianze e quant'altro relative al caso scommesse il caso che sta sconvolgendo letteralmente il mondo del calcio italiano sintonizzati martedì su Rai3 ho visto pure un'altra cosa allucinante di un intervento di Corona in radio una roba vergognosa nei confronti della giornalista che tratta tipo di merda sentite proprio sicuramente voi avrete sentito che follia una roba proprio schifosa e la gente pure nei commenti bravo cantata qua puttana sei proprio un grande Chad cioè ragazzi una cosa di un vomito proprio di uno squallore insulti è proprio 37 minuti che era tipo non sai fare il tuo lavoro dove cazzo erano devo mettere più recenti data di caricamento offendere giornalista in diretta forse è questo anche se è un'immagine trasmissione sport dai madonna mia quanto li odio sti video questo ho letto che avresti l'intenzione di svelare i nomi di alcuni calciatori che sono omosessualità che sono omosessuali in questo caso non c'è ovviamente nessuna fattispecie di reato ti volevo chiedere se sia vero e perché dai ma mi fai in questo momento sta domando non è gossip è diritti quindi ti chiedo se hai questa intenzione vai sul mio canale tele ma ci sono le prove di un giocatore ma che domande si è offeso che voleva fare gossip ma ti rendi conto ma sta roba è passata come una grande blastata di corona ragazzi questo vi fa capire che uomo piccolo piccolo che è cioè questo intanto guardate proprio l'insinuità intanto subito spammino al gruppo telegram ah perché là sul mio gruppo telegram ci sono le prove oppure ogni po' ti ripeto e vabbè ma poi lui parla di gossip dicendo eh dietro questa grande inchiesta che c'è tutto il mondo parla di questo adesso mi chiedi di queste cazzatine uno anche questa merda che hai tirato fuori al pari del gossip per come la stai trattando non come importanza perché chiaramente è una roba molto più seria ma per come la stai gestendo tu la stai gestendo al pari di un post su web ma peggio le implicazioni sono molto più grosse di una coppia che si lascia ma purtroppo il tuo modo superante è lo stesso e poi andiamo avanti sentite ma che lavoro fai stai parlando dell'inchiesta che può chiudere il salto italiano che manda le squadre più importanti in serie B che elimina tutta metà della squadra nazionale e mi chiedi dei gay ma ce la fai sì sì sono perfettamente convinta tra l'altro anche qui ma secondo voi cioè decide lui che cazzo no ma soprattutto ma secondo voi Corona avrebbe mai dato qualche informazione degna di nota in radio non avrebbe tenuto le esclusive per lui anzi ha più senso fare domande su altre a questo punto ma è una grande tecnica perché non c'hai nulla da tipo ma certo per gonfiare la roba quello che può far chiudere il calcio italiano una nazionale cioè ma secondo voi la classica tattica di non dire niente ma far pensare che hai tra le mani delle bombe incredibili ma lui assolutamente è una tattica vecchia come il cuco insomma l'abbiamo vista pure da pesci piccoli e fuffatori lui assolutamente questo atteggiamento da Dio più totale che può decidere di poter e dover parlare quando vuole lui quando decide lui e se qualcuno prova a fare a dire il contrario si incazza anche e ti fa sentire un verme mentre il verme è lui qui in questa situazione ma mo sappiamo insomma lui stesso si autodefinisce Dio Corona quindi sta cosa di super ecocentrismo diciamo che non è un segreto a questo mi fanno molto ridere i meme che abbiamo messo nelle iphone perché sono molto dissaganti sì però la cosa appunto che mi imbarazza un po' per l'Italia è il fatto che siamo riusciti a farlo tornare rilevante in qualche modo non solo una macchietta anche simpatica per certi versi ma l'italiano è così gli piace il Corona di turno ancora non hanno capito come lavora se c'è Corona che è una merda adesso è un po' meno merda è quella la funzione anche di personaggi come Corona e di chi lo segue ma lui fa esattamente questo ragazzi scusate lui anni fa ha creato tutto il suo impero mettendoci la faccia in prima persona dice mi sono fatto dieci anni di carcere quindi qual è il motivo per farmene altre dieci dice a me ad oggi se qualcuno mi uccidesse o ce l'avesse con me non gli interessa proprio per niente quindi dice io adesso lo faccio solamente da testimone non lo faccio più da primo soldato in prima linea ma da colui che sta seduto e osserva la rovina delle persone che è solo un modo per stare su un trono fatiscente non prendersi la minima responsabilità e pensare di farla franca esatto esatto mentre prima ci metteva forse era anche magari più apprezzato prima perché almeno prima ci metteva la faccia spoiler però farà la stessa fine lo dico io ne ripariamo fra due anni infatti sì prima ci ha messo la faccia faceva le cose in prima persona ci ha sbattuto la testa mi pare che è stato anche condannato lui è stato stra condannato poi è ritornato è ritorno in auge in televisione poi è un po' risparito poi è ritornato un'altra volta sempre dei cicli che tornano di queste persone è incredibile strano scandalino poi gli serve andare a surrai tre che poi non è che è semplicemente finito nell'ombra è proprio finito un carcere per anni ma ci rifinirà secondo me Rubino non è quello il punto si autodenunciano alcuni sono veri ma l'abbiamo detto già alcune cose sono vere ma alcune avevano già delle indagini in corso quindi semplicemente Corona e altri non solo lui hanno ricevuto delle notizie prima notizie che per quale motivo non vengono rese pubbliche perché nel momento in cui tu hai un avviso di garanzia non significa che tu sia condannato significa che stanno indagando e ti arriva questo avviso se domani ti arriva un avviso di garanzia a casa Rubino non è detto che questa cosa sia rilevante se il corona di turno prende e dice Rubino un avviso di garanzia per molestia sessuale poi magari te ne hai fatto un cazzo dimostri in tribunale che sei innocente ma nel frattempo si alza il polverone per il nulla questo è come funziona la macchina del fango poi qualcuno di questi nomi magari sarà anche condannato tra cinque anni tra sei anni prima poi c'è anche il tribunale sportivo che è un'altra questione parliamo del tribunale però italiano effettivo non di quello sportivo nel frattempo però magari tu hai distrutto la vita a queste persone non sei capace corona la prego vabbè dai Fabrizio intanto prendiamo non sei capace ma ce la fai sì sì sono perfettamente convinta che sia un tema rilevante non sei capace corona la prego vabbè dai Fabrizio intanto prendiamo le distanze ovviamente dalle affermazioni che lei ha fatto sull'ANSA tutti quanti come radio come testate io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo perché per me lei è un incapace guardi non mi distorgo ma tu non fai giornalismo corona levatelo dalla testa tu non fai giornalismo il sottotesto è quello fai merda merda che piace merda ben confezionata in quello si è un fenomeno ma è merda l'ecocentrico campa di autoconvincimento ma quale giornalismo vede minacce ovunque alla sua identità cioè questa è una giornalista vera in realtà è per questo si sente minacciato da una domanda reale esatto perché sta facendo effettivamente un lavoro non è una cazzata bravo ma sai perché hai detto bene gli ha fatto una domanda neanche un'affermazione ma sai perché quella domanda secondo la sua ottica da persona completamente egocentrica metteva in secondo piano la sua grande inchiesta che aveva rivoluzionato l'Italia cioè capisci per quanto lui adesso si sente il capo del mondo cioè sta roba per lui secondo me è un danno enorme proprio per la sua stabilità mentale che più volte a dimostrare il corso dei anni lui stesso ha ammesso di avere problemi di questo tipo no di narcisismo di egocentrismo cioè sta roba è un disastro nei mani sue cioè tornerà veramente al potere percepito e questo purtroppo è ciò che lo ha fregato ai tempi comunque vabbè cazzi suoi la distanza la ringrazio da che pulpito dare della merda a Corona allora Scino ho detto che è merda quello che fa poi il pulpito che cosa vuol dire pulpito cos'è il pulpito quale pulpito che cos'è un pulpito perché mi devo definire una merda e comunque sia ho detto quello che fa non è giornalismo è merda e questo tuo commento è una merda spero che sia una bella donna almeno questo la potrete salvare senti qua che squallore sì sì senti che grazie OCV senti lo squallore finale proprio no giusto se sei una bella donna te puoi salvare senti che squallore proprio questo non sarebbe gossip modo di fare l'ercio capito che squallore guardi non mi disturba la distanza la ringrazio spero che sia una bella donna almeno questo la potrete salvare vi prego ma lei è stata super professionale sì sì ma infatti queste persone che giustamente non sanno che rispondegli perché non sanno scendere a livello basso come lui non sono proprio capace nel momento in cui gli rispondi lui è contento perché tu cadi nella trappola del narcisista che giochi alle sue regole non gli devi mai rispondere mai entrare nella sua modalità sì ma di una cosa sta frase dimostra proprio che tipo de merda sei ma il narcisista vuole ovviamente vuole trascinarti al suo livello e si cosparge di persone goblinoidi che accettano questa implicita superiorità questa divinità e alimentano l'illusione social boom ma tu cioè social boom ma chiunque pure una persona che non sta come posso dire che non è un influencer che non sta su internet pure che ne so un direttore in un ufficio può essere un narcisista che fa questo non è per forza questo però infatti lei è stata bravissima secondo me ma la cosa paradossale è che lo sta leggendo pure in chat da noi quindi vabbè mi auguro che siano ragazzi così passeggeri sul nostro canale non il nostro pubblico però gente che in seguito a questo dibattito comunque dica eh no ma c'ha ragione lui cioè la prova asfaltata questa è una cretina ma chi lo dice i fan goblin di corona pollia cioè per essere fan di corona devi odiarti no no perché ovviamente nel momento in cui tu sei pagato e fare cose come si deve come la giornalista in questione sembri magari per i più stupidi quello che non ha vinto il dibattito in questo caso che poi non è un dibattito cioè semplicemente lei che ha fatto una domanda e lui che è esposto da cafone ma riducato del cazzo quelli che ragionano con dinamiche dell'asilo eh certo per gonfiare il suo caso mediatico che adesso l'ha fatto tornare alla ribalta è finalmente uscito da quel semi anonimato e semi situazione in cui ormai era una macchietta ospitata solo per sparare le grosse e parlare di due gossipate della settimana infatti lui scusami fa un'intervista da l'Adriani sui due mi sembra dove di io poi lo studiare tutte quante per capire fino in fondo lui che tipo di personaggio fosse dove dice lei gli fa una domanda specifica dice hai paura di andare un po' nel cono dell'ombra e lui dice io sono la luce in persona perché io non andrò non andrò tipo esatto esatto ti immagini la nuvoletta con la luce che scende di lui in fronte e lui dice io sono la luce in persona non andrò mai nel cono dell'ombra ma lui vive da luce riflessa è questa la triste verità che sa anche lui ma lui morirà investito dal suo ego secondo me se si sentirà morirà da solo da qualche parte tutta Italia che lo cerca tipo latitante ma io prima l'ho citato quando ho detto che lui si crede Dio non è una mia interpretazione sono proprio le sue parole lui si è proprio autodefinito Dio ha sti problemi qua che avete spiegato se si autodefinisce Dio succedono due cose in chi lo ascolta chi è una persona equilibrata che pensa beh ciao questo è un cojone chi è impressionabile che fa oh che grande un grande un grande il mio mito mio padre quanti esempi ci sono per cortesia tanti penso che hai citato te quelli quelli più evidenti quelli diciamo la maggior la fetta più grande quella che hai detto te si trovano dei pet delle persone così un po' deboli mentalmente da usare come scagnozzi e poi la verità diventa magicamente irrilevante certo perché qua non è che conta la verità qua conta quanto può diventare il mondo fatato del narcisista che ti riempie di cazzate ti riempie della sua realtà e se stai alle sue regole a come pensa che lui e come lui pensa che debba andare il mondo ti tiene nella sua ala e magari ti riempie pure di complimenti ti fa sentire apprezzato poi appena non fai quello che vuole ti fa vedere la sua vera natura demoniaca perché il narcisista ha un demonietto a patto che ci sia abbastanza interesse da parte del pubblico cercheremo pure di portare in live altre persone implicate in questo caso pure per far capire dove c'è verità dove ci sono solamente bugie strumentalizzate boniac attacca corona a patto che interessi a voi se no noi parliamo di altri ridi di ma da martedì non so se riderai ancora grande boniac ex carciatore da juve per boniac boniac per boniac mi sembra tipo quelle cose non conosco però c'ha un bel nome mi piace era un carciatore da juve dico bene sembra quegli antipasti al che babbà boniac stop me ne parlò Leonardo Marra mi ricordo che è Trump si mi sembra che sia facente parte della nazionale polacca dove ora è il ragazzo si bravo quindi dice ci saranno le nostre difese a pure dalla Roma è vero si 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 comunque assurdo è questo vada in Rai gli diano spazio intervistarlo a prescindere dalle informazioni lui sta pure in mezzo a quel giro ma scusate poi io le persone che vanno in tv vedo che la tv corona ogni tanto lo prende una volta all'anno una volta ogni due anni gli fa fare quella cosa là dove dice delle cose però poi lo rinnega gli fa comodo a piccolissime dosi qualche goccia di corona perché tanto è tutto il trash il famoso share i riflettori in la tv è un po' così lo sfruttano lui sfrutta la tv è tutto uno sfruttamento reciproco come voleva fare anche Erpo ma dall'inizio cioè la dinamica è un mondo di sfruttamento reciproco porco Dio se vai a vedere decine e decine pure dei personaggi che erano visti come magari grandi attori grandi cantanti poi appena hanno un declino vengono richiamati per vedere gli ubriachi califano mille esempi non ci posso credere che gli hanno fatto le cose si sono pure volute perché una volta le persone le potevi attirare parlando di grandi soldi invece ora magari chi va a finire col faccione in copertina o chi magari può essere implicato mediaticamente sta cosa tipo queste storie che mette questo è Scialpi non ci posso dire che gli hanno fatto questo è il commento che farebbe zio Mauro sul divano facendo una foto a televisore solo che è autorevole è importante quest'opinione poi c'è la menta del gossip e dell'arte ma ragazzi voi avete visto chi sono questo gruppo di Legger News cioè lui fa una storia con sette persone in webcam non potete capire chi sono questi divi non potete capire quattro capelli in testa uno con una lente uno no tutti storti non potete capire e ci fa le dirette su Instagram no no lui fa ogni tanto li inquadra fa questa storia dove inquadra questi sette salami di staff ma non insultiamo no no meritano insulti e body shaming ma che cazzo 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 ecco non te ne frega un cazzo non me ne frega un cazzo no ah eccoli i salami ecco i salami ecco i salami piccanti i salami piccanti ecco ma che cazzo guardate 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 Dio che i suoi discepoli disse sono palesemente dei figuranti fatemi senti un attimo fatemi senti un attimo di Dillinger e sul canale Instagram come Rill è difficile? praticamente che bella posta era un'azienda dove parla uno solo tutti gli altri muti è bellissimo lui sta esattamente dicendo inculiamoci il pomata per Dio facendo uscire il suo vocale questo sta dicendo ciao come Urtis adesso da circa un anno anche Jenny quanti anni hai? dai smettiamo no no non commento sono molto cattiva come tutti gli anni dai ma si è un dipendente più di qua è Giacomo Urtis questo è Ermafrodite no no praticamente Ermafrodite no che era uscita poi una notizia ma io ve l'ho detto subito vabbè sicuramente è una roba l'ennesima per far parlare che lui se voleva sposare con Giacomo Urtis però penso l'ennesima cazzata per finire sui giornali chiaramente proprio c'è l'attentato è tutto è quello che vi dicevo prima avrà pure pagato secondo me Urtis no ma lui ha detto esattamente questo ragazzi oppure il contrario non lo so magari pure il contrario lui ha detto anche io ho usato Giacomo Urtis come stato uno delle mie tante petine parlavano di questo affellazio che ha ricevuto da Urtis mentre invece non era vero e lui l'ha confermato in diretta televisiva dicendo Urtis è solo un ulteriore petino ok beh usa le persone per i suoi scopi tipico classico beh vabbè detto questo ragazzi insomma non che ci stupisca troppo il modus di corona però abbiamo avuto una prova diciamo che non c'è alcuna verifica delle fonti questo mi sembra abbastanza questa live fu funga da verità da almeno un piccolo bagliore di verità in tutta questa pletora di articoli tiktok persone commenti perlomeno se ci avete magari vostro zio che su sta storia sta impazzì mandategli questa live questo vale pure per la chat se qualcuno ha informazioni o ha contatti di persone che sono state implicate in questa storia ci contattasse alla nostra email certo certo 20.000 euro 20.000 euro 20.000 a testa informazioni diamo 20.000 euro anche false pure su Don Vito soprattutto false anche false su chiunque ragazzi sempre preoccupate e poi Bruno l'ho invitato a Lupus uno a parte che si potrebbe fare guarda a manissimo secondo me deve fare lì da Luca a parte si potrebbe fare una live di tre ore solo a raccontare le robe che abbiamo fatto a 15 anni devono fare una compilation tutte le volte che Gianluca ha iniziato una storia stavo con Erpomata e poi lo invitiamo e glielo facciamo vedere best off di Gianluca Erpomata lo stavamo a di prima pranzo e ho detto Bru io con te ho fatto sia cose che ne vado proprio fiero e sia cose di cui mi vergogno tantissimo è un vero amico che avete fatto di tutto beh assolutamente diciamo che la nostra amicizia risale ai tempi di diciamo 15 anni fa quindi parliamo di noi stavamo insieme al mare ad Ostia siamo conosciuti in là perché a fine stavamo allo stesso mare e poi a fine siamo proprio stretti in amicizia verso 15 anni che poi oltre il mare abbiamo iniziato pure a usci insieme la sei creata poi una comitiva gigantesca sia le gente di Maiana gente di Ostia tutte persone squisite tutte personcine come si deve potremmo parlare di aver creato insieme cortometraggi porno questa cosa non ce l'ha mai detta cortometraggi porno è proprio una novità ecco il pomada che sniccia qua pomada mi sa che ti dobbiamo pagare noi mi dico noi 20 mila euro per fare una bella inchiesta infatti ma sono sempre stato un angioletto attento gialluca è qua amore se stai seguendo la live sono le cose di cui non vai fiero queste magari in quella parte lì secondo me mi arriva una telefonatina da parte di qualche canale no no infatti se la mia ragazza è in live se può chiamare il cerbero e dire qualche informazione su mister flame falsa 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 riconosamente falsa non ho mai fatto del male a nessuno al massimo ho regato piaceri ma si qualche schiaffone non in faccia ma sul culo quindi non fa non fa quello per carità allora grazie Rachelin grazie ovviamente a Bruno per questa testimonianza contro testimonianza la sua vecchia testimonianza insomma sul caso del momento ci saranno aggiornamenti magari grazie a voi ragazzi vedremo in seguito a questo bordello mediatico vediamo anche se domani dirà qualcosa effettivamente corona se sparerà altri nomi nel mucchio e ci vediamo alle ore 21 ciao ragazzi a dopo ciao 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 che squali state arrivà è l'ho crocian ciao 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 Grazie a tutti.